Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati, oggi è il 27 di luglio e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, una videoanalisi particolare perché questa sarà una settimana ricca di volatilità, ci sarà tantissimo movimento sui mercati perché i dati macro presenti in agenda sono veramente molti, vado a selezionarli su il sito di Bloomberg anziché su investire.biz proprio per selezionare quelli maggiori, quelli di maggior rilevanza, vi faccio notare come oggi alle 14.30 ci sarà il dato in America sull'ordinativo di beni durevoli, un dato molto importante per quello che riguarda appunto lo stato dell'economia americana, ma non sarà questo il dato importante perché nella giornata di martedì inizierà appunto il meeting del Federal Open Market Committee, quindi si riunirà la Fed e inizierà a parlare con riferimento al rialzo, al tanto atteso rialzo dei tassi di interesse da parte appunto degli Stati Uniti e l'annuncio sostanzialmente arriverà alle ore 20 della giornata di mercoledì, poi più avanti appunto ci sarà la conferenza stampa dove si discuterà appunto se il rialzo, appunto a parte dovremmo vedere se ci sarà stato, io penso di no, ma comunque quali saranno le prossime mosse della Fed, ma non finisce qui perché qualche ora più tardi sostanzialmente il giorno successivo alle ore 14.30 avremo il dato importantissimo sul PIL, quindi partiamo con gli ordini di beni durevoli, lunedì, mercoledì dati sui tassi di interesse, giovedì GDP che sostanzialmente è il PIL degli Stati Uniti, quindi veramente dati uno più importante dell'altro in stretta successione, quindi staremo a vedere. Nel frattempo quello che abbiamo notato questa mattina in apertura di mercato è una forte, diciamo un incremento importante insomma dell'euro, l'euro è tornato a scambiare contro il dollaro oltre il livello di 1.10, nel momento siamo 1.10.77. Quello che è interessante sono gli ordini che sono entrati, tutti i pendenti che avevamo inserito durante il trading live di venerdì e sono nello specifico questo lotto di euro-dollaro, l'avevamo messo a 1.10.80 e sono esattamente i prezzi che sta battendo il mercato in questo momento, poi avevamo messo il nostro ordine sul euro-slot polacco, anche in questo caso con il rafforzamento dell'euro quest'ordine è entrato a mercato a 1.4.15, avevamo, se vi ricordate bene, chiuso la posizione uno short a 4.11 circa la settimana scorsa per poi rientrare e anche in questo caso appunto siamo appena rientrati, poi in realtà la posizione, quella che sta andando forse un filo meno bene è euro-jena, avevamo messo questo pendente a 136, siamo al momento a 136.62, come vedete lo stop è in macchina a 137, quindi qualora dovesse superare quel livello chiuderemmo la posizione appunto con una perdita di 100 pip, ma staremo a vedere. Nel frattempo vi segnalo le posizioni invece in spread che abbiamo invece mantenuto in portafoglio, le avevamo aperte durante il trading live appunto di venerdì, le manteniamo in portafoglio, considerate che questa è una posizione mediamente più grande rispetto a quella che mandiamo a livello di sms, quindi sostanzialmente siamo in una perdita che è da considerarsi intorno allo 0,2-0,3%, quindi assolutamente nulla di particolarmente preoccupante. Io sono convinto che questa mattina le borse hanno aperto in maniera non particolarmente esaltante, questo è il grafico per esempio del DAX di questa mattina, vedete c'è un'apertura non particolarmente esaltante, gli indici sono tutti quanti in territorio negativo e penso che questa sarà la tendenza della giornata, oramai quello che si aspetta è il ritracciamento del DAX fino ad area 11.000 punti, quindi insomma ci si aspetta che i prezzi possano ritornare in maniera anche piuttosto veloce su questa media mobile che vi ho diciamo evidenziato, quindi attenderemo che i prezzi possano arrivare su questi livelli e poi vedremo come decidere, visto che c'è fortissima incertezza perché vedete un trend al rialzo, un trend al ribasso e comunque una sostanziale lateralità in questa fase, diciamo se la consideriamo appunto come range un po' più ampio, qui c'è fortissima incertezza e quindi il consiglio è di continuare a operare in spread, quindi qualora non aveste fatto operazioni in spread potete tranquillamente seguire l'operazione che abbiamo impostato noi, operatività in maniera direzionale su questi indici come vedete c'è forti strappi al rialzo e al ribasso che poi comunque riportano i prezzi sui prezzi precedenti, quindi insomma è particolarmente rischioso operare in maniera direzionale, consigliamo l'operatività in spread come abbiamo fatto noi. Non mi voglio dilungare tantissimo perché i temi sono veramente tanti dall'oro al petrolio a NZD CAD laddove appunto abbiamo incrementato una posizione durante il trading live, quindi che abbiamo ancora qua in portafoglio, GBP AUD, ottima posizione che abbiamo ancora in portafoglio che sta dando ottimi frutti, ma voglio approfondire tutte queste tematiche durante il webinar che terremo questa sera, vi ricordo andate su investire.biz cliccate su corsi e webinar, questa sera alle ore 18 ci sarà il consueto webinar del lunedì, un webinar assolutamente gratuito, quindi basta cliccare su iscriviti e potrete partecipare in maniera appunto assolutamente gratuita, basta cliccare su questo tasto e vi compare questa pagina, inserite i vostri dati e potrete partecipare. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading per la giornata di oggi.